e allora appuntamento speciale per quanto riguarda la rubrica dedicata alla cantera blaugrana rubrica che oggi diventa video con nicola amato e daniele serrelli ben arrivati in sala stampa grazie grazie allora iniziamo con come dico è un focus molto molto generale appunto sui gruppi principali gruppi chiaramente 17 19 della virtù sareti salerno partirei da nicola raccontiamo un po quello che sta accadendo le ambizioni chiaramente con cui sono stati costruiti questi gruppi e come stanno evolvendo questi primi mesi di lavoro chiaro più di parlare di due gruppi separati parlerei di un gruppo singolo perché lavoriamo praticamente con un super gruppo sempre quindi mischiamo le categorie le annate in modo da poter far crescere un po un ragazzi lavorando insieme è palese che i ragazzi si conoscano tutti iniziano ad avere comunque una certa chimica e questo è fondamentale per creare quello che è solo un po dall'aspetto tecnico quindi da crea comunque una certa alchimia e cioè si sta bene nel gruppo che è un presupposto secondo me fondamentale per poter fare bene per quanto riguarda un po di più l'aspetto tecnico ci stiamo focalizzando ovviamente sulla crescita dei singoli tanti lavori di fondamentali e appunto di individuali per poter fare in modo che loro possano essere pronti anche magari per quanto riguarda la 19 con la prima squadra la 17 con la con la 19 perché appunto gran parte dei giocatori della 19 fanno anche parte del roste della prima squadra gran parte giocatori della 17 fanno parte del roste della 19 e quindi il nostro focus è quello appunto di preparare i giocatori singolarmente e di conseguenza poi ovviamente ci sono quei pochi rari allenamenti nei quali ovviamente prepariamo le partite magari tra virgolette quindi ci focalizziamo su un gruppo più che sull'altro Daniele passo la parola e la palla a te un approfondimento su quelle che sono un po le dinamiche del tuo gruppo sì allora come come diceva inizialmente Nicola essendo fondamentalmente un gruppo unico la cosa che più mi rende felice dei ragazzi e che stiano crescendo tanto anche dal punto di vista della personalità dal momento che si allenano comunque con ragazzi più grandi ed hanno comunque quindi un riferimento di ragazzi che magari giocano anche in prima squadra e loro di questo insomma sono molto contenti è sicuramente un gruppo che rispetto all'anno scorso ha delle caratteristiche tecniche diverse in quanto ha perso qualche elemento quindi noi ci aspettavamo di trovare delle difficoltà che effettivamente abbiamo trovato sul nostro percorso ma che i ragazzi stanno diciamo superando con un certo tipo di impegno e quindi siamo abbastanza soddisfatti di quello che è il percorso fino adesso della 17. Un percorso soddisfacente adesso coinvolgo entrambi magari vi passo la parola Nicola chiaramente una squadra costruita parlo della prima squadra in questo caso con un mix di giovani e veterani dal punto di vista proprio della crescita individuale dei giocatori più giovani convolti prima squadra come sta come si sta sviluppando questo percorso siamo contenti siamo contenti per il semplice motivo che era l'obiettivo societario già da qualche anno a questa parte nel senso che la transizione che ha avuto luogo nella società è evidente nel senso che i primi anni sono stati roster con più giocatori senior o comunque più giocatori che non facevano parte delle delle giovanili e progressivamente siamo andati a a far sì che i protagonisti delle giovanili siano anche protagonisti in prima squadra quindi siamo contenti il nostro ruolo come giovanili più che provare a vincere una partita in più cosa che comunque ovviamente vogliamo fare perché ci piace la competizione è quello di provare appunto a renderli pronti da questo punto di vista siamo contenti abbiamo visto che anche hanno spazio capocotta su tutti spinelli per citare i due che hanno più minutaggio ma anche fernandes e ora in nazionale ma quando è stato chiamato in caso al risposto presente luca damo nell'ultima vittoria due minuti che stanno in campo sicuramente con solidità questo ci dimostra che stanno crescendo che ci ascoltano che sono sono sulla strada giusta quindi questo è sicuramente la cosa che che ci riempie più di orgoglio perché vuol dire che anche il percorso giovanile sta andando da nella giusta direzione c'è allora in per quanto riguarda gli obiettivi diciamo dei singoli sulla 17 un po quello che vale per i ragazzi della 19 rispetto alla prima squadra c'è obiettivo è quello di provare a far sì che i ragazzi siano pronti al di là dal punto di vista dei fondamentali individuali quindi provare ad essere disponibili anche per la 19 trovare spazio cosa che già succede perché greco per esempio lo stesso catalano che palesava fino agli anni scorsi qualche difficoltà in più quest'anno riesce a tenere il campo con la 19 siamo molto contenti di questo quindi l'obiettivo è proprio questo provare a far sì che si rendano autonomi anche dal punto di vista tecnico e poter affrontare qualsiasi tipo di difficoltà anche in campionati diciamo superiori a quella che la loro categoria obiettivi di crescita individuale di squadra grazie mille a niccolò amato e daniele serrelli grazie a te